Per il Partito Democratico di Teramo, quello di questa mattina, è stato un consiglio comunale che ha mostrato le inefficienze dell'amministrazione Brucchi. A partire dalla richiesta dell'approvazione e della rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, operazione, denuncia il Partito Democratico, che comporterà un costo per le generazioni future dei terramani per oltre 6 milioni e 500 mila euro. Si spostano i mutui fino al 2044 con l'unico obiettivo di trovare delle risorse per chiudere il bilancio nel 2015, ma di fatto scaricando sui bilanci futuri, sulle generazioni future, l'incremento dei costi che questa operazione comporta. A questo intervento l'amministrazione, a approvare questo intervento, è stata costretta di fatto perché la situazione di bilancio che questa amministrazione ha prodotto in questi 11 anni è drammatica e oggi, ripeto, fa pagare ai cittadini terramani tutti i suoi errori. Così come sul PEF della Tari, della tariffa sui rifiuti, anche quest'anno abbiamo un costo particolarmente elevato, l'Aggiunta ha cercato di far passare il messaggio che si tratta quest'anno di un PEF ridotto di 10 milioni e 860 mila euro per il costo del servizio legato alla Tari, la tariffa sui rifiuti. In realtà da questa quota va aggiunta una quota di 2 milioni e 200 mila euro che in realtà riguarda i crediti inesigibili e tutta la situazione del pregresso, del passato, nei rapporti con la terra e l'ambiente, che se andasse aggiunta determinerebbe il superamento dei 13 milioni di euro del costo del servizio. Quindi nessuna vera riduzione, tra l'altro i costi fissi, che sono quelli che incidono pesantemente e che dipendono da scelte politiche di questa amministrazione nel rapporto con la terra e l'ambiente, continuano a superare il 60%. A presto, a presto.